Sono molti svantaggi nel compiere... Ma uno dei grandi vantaggi è che aspettiamo di perdere tempo con cose inutili e ci concentriamo su ciò che conta. Una serata come stasera è ciò che conta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Questo amore tra noi conta. Questi amicizi sono la vita, il fatto che abbiamo pianto insieme, riso insieme, ballato insieme e stasera possiamo anche brindare insieme. E se c'è un regalo che volete farmi, fatemi il dono di celebrare non solo me, ma tutti noi, perché siamo ancora qui. E il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso un'intera vita insieme, vogliamo ancora passare una notte fra di noi. Quello è il vero successo. Quindi grazie dal profondo del cuore per questa vita, per questo amore e per questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare. Grande!